Il 64enne Rosario Manganella di Primavera Favarese, alla presenza di diversi sostenitori del suo movimento, ha ufficializzato oggi presso un hotel di Piazza Cavurra a Favara la sua candidatura a sindaco della città. Manganella, alle scorse elezioni amministrative, sempre alla guida del movimento politico Primavera Favarese, al primo turno aveva ottenuto il 10,18% dei voti, con 2.326 preferenze. Io credo nella mia candidatura, ha aperto l'incontro Manganella. I problemi della città sono talmente tanti che non riesco a dare una priorità per la loro risoluzione. Tra i temi contenuti nel programma elettorale di Manganella, la lotta all'evasione tributaria ed una migliore ripartizione della stessa, in modo da garantire alle fasce sociali e economicamente più deboli il pagamento delle tasse. Nello slogan, coniato io ci metto la faccia, ma che cosa serve al nuovo sindaco di Favara, oltre alla faccia? Ma oltre alla faccia che è importante, perché rappresenta non solo l'immagine fisica di una persona, ma in questo caso l'immagine di una storia, di una tradizione, di un impegno politico e amministrativo che dura da tantissimi anni in questa città. Ma significa soprattutto affrontare e risolvere i problemi della città, che ormai da diversi anni, da parecchi anni, sono rimasti insoluti e addirittura alcuni di questi si sono aggravati. Per quanto riguarda poi i possibili avvicendamenti politici, qualora si arrivi al ballottaggio, Manganella apre i collegamenti con tutte le forze presenti, messe da parte i colori partitici, dice Manganella. Si deve lavorare seriamente per il bene nella città. Io non farò alleanze predestinate e programmate, dicevo poc'anzi che di fronte alle tante emergenze che ha la città di Favara non serve dividersi, ma serve unirsi. Come si amministrerà un comune con mille problemi come Favara? Il comune si amministrerà con un nuovo modo di approcciarsi alla politica, innanzitutto. Il sindaco di Favara oggi non può che essere un sindaco di lotta e di governo, c'è un sindaco che da Favara si trasferisce continuamente a Palermo, a Roma, a Bruxelles a cercare finanziamenti per risollevare le sorti di questa città. Senza questo avremmo già fallito in partenza.